... Gentilissimi telespettatori, le telecamere di STV questa sera alla Mese Terme esattamente si ritorna al Gianni Renda. Perché siamo qui al Gianni Renda? Perché presentiamo da qui a poco un evento veramente storico ormai per la Mese Terme. Stiamo parlando della panoramica alla Metina. Per parlare di questo evento sicuramente non possiamo che parlare con lui, con chi evidentemente lamenta l'anima di questa manifestazione. Il dottor Pietro Gatto che incontriamo a distanza di un bel po' di tempo. Ingegnere, dottore, come ti devo chiamare? Come stai? Pietro, è tutto bene Renato? Grazie, grazie a tutta l'equipe di STV. Sì, siamo qui. Riproponiamo a Valle, speriamo di questa finita pandemia di Covid-19 che ha caratterizzato due anni di blocco di tutta la nostra attività sportiva. Speriamo in questa ripresa che avverrà il 14 novembre. Riproponiamo la panoramica di primavera, questa magnifica manifestazione sportiva di corsa su strada dove la nostra città sarà nuovamente palcoscenico, palcoscenico di sport, palcoscenico di aggregazione, palcoscenico di socialità. E quindi è importante anche fare un passaggio storico perché è una gara che nasce negli anni 70 per volere di un'equipe di persone, dico particolari, un'equipe di persone che sono medici, impiegati, non sono atleti, non sono professori di educazione fisica ma sono degli impiegati. Ma perché nasce proprio in quel periodo? Perché proprio in quell'epoca, gli anni 70, gli anni 80 sono caratterizzati dal grande sviluppo economico, della grande occupazione negli ambienti di lavoro, anche di socializzazione. E il tempo libero, lo svago diventa una cosa importante. Questi medici, questi dottori di allora, degli anni 70, cosa praticano per reoccupare il tempo dello svago? Non il calcio, non prendono il calcio, non prendono il tennis, guarda un po' si dedicano all'atletica leggera. E qui Renato abbiamo un'istituzione dell'atletica leggera, la metina, che io vorrei passare il microfono in cui ci riporterà sicuramente in quegli anni a quei grandi momenti di aggregazione sociale. Ebbene sì, abbiamo parlato di storia e parlando di storia, lo storico di questa manifestazione non può essere che lui, il nostro magico Lino Piricò, che rivediamo con immenso piacere. Lino, dai, che cosa ci dici? Che cosa ci racconti? La panoramica di primavera è una manifestazione politica che è stata inventata da Franco Cerra e da Agostino Porchia. Io ringrazio Pietro perché dopo tanti anni l'ha riportata un'altra volta alla grande e fa correre e nuovamente far vivere gli anni che abbiamo vissuto insieme quando eravamo ragazzini, perché ne sono passati forse 40 anni, sono passati dall'inizio di questa prima edizione. Quindi speriamo che quest'anno i lamettini risponderanno alla grande, perché la panoramica di primavera è stata ideata per far correre, o meglio, più che per far correre, per far partecipare le famiglie, i bambini, i genitori, tutti quanti insieme. Quindi è un momento di grande aggregazione. Quindi mi auguro Pietro che quest'anno anche la terza edizione, mi pare, vero? La terza edizione sarà un successo come tutte le edizioni passate. Sarà sicuramente così e noi passiamo sicuramente il microfono a un altro grande che è evidentemente protagonista di questa panoramica. La pandemia ce l'ha tenuto un po' lontano, diciamolo chiaramente. Lui è il dottor Giuseppe Furgiuele e con noi finalmente, e lo rivediamo anche lui con immenso piacere. Allora Giuseppe, sei carico anche tu? Certo, siamo tornati. Siamo tornati alla vita. Lo sport è vita e quindi siamo tornati anche noi. Il nostro obiettivo è stato sempre quello di portare le persone a muoversi. Il Covid purtroppo ha rallentato un pochino la vita di tutti. Tutti sono stati all'interno delle proprie case e l'unico compagno è stato il lievito di birra. Quindi quello che dobbiamo fare è veramente quello di muoverci, tornare sulle strade, nei campi da calcio, nelle piste d'atletica. Quindi lo sport deve riprendere la vita che c'era prima. La panoramica negli anni Ottanta, penso, ha portato alla mezza circa 5.000 persone. Quando mi sono avvicinato alla panoramica e quindi all'associazione di Pietro, l'obiettivo era questo. Speriamo di riuscirci quest'anno. Ringraziamo il nostro dottore e Ducis in fundo, non può esserci che lui, il nostro giornalista, il nostro scrittore, addetto stampa in questa manifestazione, grande amico Salvatore Elia. Benvenuto anche a te Salvatore. Grazie Renato, un saluto ai telespettatori e grazie a questi compagni di viaggio. Il 14 novembre sarà la terza edizione della nuova panoramica, ma per come l'ha concepita Pietro quest'anno, davvero può essere un'occasione di rinascita e di ripartenza per la città. Perché, che poi riprende un po' il filo storico tracciato da Lino Piricò, la panoramica mette insieme tutte le diverse espressioni ed energie della città di Lamezia. Ed è il modo migliore per ripartire, per ripartire dopo due anni di sofferenza, due anni di sospensione della vita sociale e aggregativa. Attraverso la corsa, attraverso l'atletica leggera, si rimette in moto una città, si rimettono in moto le energie associative, imprenditoriali, le diverse generazioni. Ed è il modo migliore davvero per lasciarsi alle spalle quello che abbiamo vissuto in questi due anni e ripartire correndo e con entusiasmo. Grazie al nostro Salvatore e ritorniamo qui al nostro dottor Pietro Gatto per sapere come è strutturata quest'anno questa meravigliosa manifestazione. Pietro, allora. La gara, devo dire, ha un'importanza unica, questa terza nuova edizione, perché racchiude due prove fondamentali, due prove di gare competitive regionali. Il campionato regionale FIDAL per la settima prova di corsa su strada e poi c'è la terza prova del campionato regionale dell'ente di promozione allo sport, Libertas Sport. E questo è per quanto riguarda le categorie promozionali. Noi siamo voluti andare oltre in questa gara e abbiamo voluto inserire per la prima volta la prima prova dei non tesserati per le categorie professionali. Cioè vogliamo abbracciare tutti quei papà, tutti quei gentili uomini, tutti quei gentili signori che lavorano sempre per tantissimi motivi su ambienti di lavoro diversi e poter dare a loro un certo lustro, una certa visibilità anche nel mondo dell'attetica leggera. E per stimolare questa partecipazione, questa aggregazione per figure professionali abbiamo inserito dei premi simbolici. Quindi un premio simbolico per i primi tre all'arrivo di ogni categoria professionale. Esempro i primi tre medici e le prime tre dottoresse arrivate al traguardo, i primi tre ingegneri arrivate al traguardo, le prime tre donne ingegneri arrivate al traguardo e così via gli architetti. Insomma tutte le categorie professionali, non le voglio elencare tutte perché sono ben 28 categorie che abbiamo elencato e che sono scritte nel regolamento e io sono fiducioso che verrà apprezzata questa iniziativa e che possa scendere con tutta la famiglia, ogni categoria professionale possa scendere con la propria famiglia su strada per partecipare tutto assieme e vivere una giornata di sport anche se parliamo di panoramica di primavera ma espressamente disputata in autunno per le ovvie condizioni di restrizione dovute alla pandemia ma speriamo bene. Ci auguriamo che il tempo sia clemente, che possa accettare la nostra iniziativa e che ce la possa far sviluppare in tutti i sensi. A questo abbiamo aggiunto anche un'ottima pacco gara, un pacco gara veramente pregevole per gli atleti, un bellissimo zainetto sportivo con all'interno anche un'asciugamano sportiva che può essere utilizzata diciamo in qualsiasi circostanza dello sport o anche in palestra e quindi ecco abbiamo messo assieme tutta una serie di specifiche affinché possa essere apprezzata l'iniziativa affinché tutti quanti possano partecipare e andare nella direzione di raggiungere quell'obiettivo del 1979 di 5.000 partecipanti di cui è ormai diventata la nostra mascotte quella foto che è dietro le nostre spalle, 5.000 partecipanti alla presenza di Pietro Mennea. Bene, mi fai giudere in un modo simpatico che sicuramente non abbiamo preparato perché noi così andiamo a braccio. Partendo dal nostro magicolino un motivo per iscriversi a questa gara perché ancora non l'ha fatto? Prego, col microfono, un motivo, veloce. Allora, un motivo è trascorre una giornata all'aria aperta, sana, insieme a 5.000 persone. Benissimo, un altro motivo al nostro dottor Giuseppe, vai. San stile di vita, stare in salute dai bambini ai nonni. Al nostro carissimo Salvatore, vai. Per vivere attraverso lo sport quella magica sensazione di sentirsi comunità. Giù di tu Pietro con l'ultimo motivo, vai. Ci vediamo tutti giorno 14, domenica 14 novembre, su Corso Numistrano che sarà un palcoscenico unico per la nostra città. Grazie, vi aspettiamo. Grazie a tutti.